Buongiorno, spero che mi riesci a vedere, allora vi faccio un esempio di come iniziare, in senso orario, prendi il filo, lo metti così, poi vai 1, 2 e 3, questo lo giri e lo porti fuori, così, poi riprendi l'altro filo, parte di qua, e fai 1, 2 e 3, e ti fermi, lo giri, lo metti qua, nei pinni, lo sistemo per il pianino, così abbiamo il centrale che è questo qua, e questi qua, vanno a drave, drave, drave dei mospetti, e bin, positivo, è questo qua, metto un po' di nastro, lo sistemo per bene, in modo tale, giustamente, che viene uniforme, aspettiamo, quasi riesco a metterci un nastro, che viene male, così, e già è fatto il primario, che è questo qua, questo qua è bin, 1 e 2, poi secondario, il secondario riparte dall'altro lato, aspetta, metto un po' di filo, qua lo trovo, ok, vi faccio vedere come fai, secondario, riparte sempre da qua, da questo lato, fai così, e questo poi in secondo tempo, quando sappiamo se tutto va bene, riparte, 1, 2, 3, e via, fino a quando io adesso non lo taglio a filo perché mi viene male, così, una volta, per esempio, che abbiamo stabilito che sono quattro spiri, ho riporti qua, e già abbiamo fatto il primo avvolgimento del secondario, e abbiamo una uscita, poi riparte un'altra volta lo stesso, uno metti qua, e così via, spero che sono stato chiaro, e posso fare dopo tutto il secondo giorno,